Minacce al sindaco di Agropoli, Adamo Coppola. Confermate in Cassazione tutte le condanne combinate ai componenti del cosiddetto clan degli Zingari, sgominato nel novembre del 2018 con un blitz dei carabinieri della locale compagnia. Gli ermellini hanno ritenuto infatti inammissibili i ricorsi presentati dai legali dei cinque imputati. Pene confermate dunque per Enzo Cesaruro alias Cavallaro, un anno e sei mesi, Vito Marotta alias Dumbone, un anno, dieci mesi per il 32enne Vito Marotta e sei mesi ciascuno per l'omonimo 39enne Vito Marotta detto Corleone e per Antonio Dolce detto Capone. Durissimo fu il colpo inflitto dai militari dell'arma occidentani, allora agli ordini del capitano Francesco Manna, agli esponenti di spicco della comunità rom agropolese. A seguito dell'indagine faro coordinata dalla DDA di Salerno e culminata all'alba del 30 novembre 2018, quando furono eseguite ben 22 misure cautelari, di cui 11 in carcere, 7 ai domiciliari, 4 obblighi di dimora a carico di capi storici, esponenti di spicco e fiancheggiatori delle famiglie rom Marotta, Dolce e Cesarulo. Una vera e propria holding del crimine, a gestione familiare, capace di tenere in pugno la città di Agropoli sotto la sferza dell'intimidazione, imponendo assunzioni di parenti e sodali in società a servizio del comune, arrivando a minacciare con metodi mafiosi anche sotto ufficiali della locale compagnia e il sindaco Coppola, sfasciandogli fin anche la porta dell'ufficio in municipio.